I pancakes sono ormai diventati i protagonisti delle nostre colazioni, ma quindi spesso solo in versione dolce. E se vi dicessi versione salata e proteica? Prendiamo il protein pancake mix di MyProtein senza aromi, 150 ml di latte, del formaggio spalmabile, un pizzico di sale, quanto basta, 100 g di salmone affumicato e una qualche manciata di rucola fresca. Vi consiglio di utilizzare uno shaker e versare all'interno prima il latte, che potete prendere parzialmente sfremato, intero o vegetale, e subito dopo due misurini di protein pancake mix di MyProtein e il pizzico di sale. Ricordatevi solo alla fine di aggiungere nel vostro shaker la pallina che vi aiuterà a shakerare senza avere grumi. Shakerate per bene e una volta pronto, versate parte del composto in una padella antiaderente, leggermente oleata, e cuocete il vostro pancake a fiamma moderata. Mi raccomando, il vostro pancake sarà pronto da girare quando in superficie ci saranno le bollicine. Girate e voilà, il primo pancake è pronto. Con queste dosi avrete due pancakes di queste dimensioni. Ora non vi resta che farcire il primo e io vi consiglio di utilizzare una crema di formaggio spalmabile, leggera. 50 g basteranno, dopodiché salmone affumicato e la manciata di rucola fresca. Ora chiudete col secondo pancake e voilà, il pranzo è servito. È leggero, salato, fresco e proteico. Meglio di così, buon pranzo!